Io ho dedicato la mia vita a mio fratello, a mio fratello familiare, a mio fratello avvocato, ma sono convinta, sono certa che la giustizia italiana mi darà soddisfazione. Io non voglio vendetta, voglio giustizia, quella giustizia in cui Francesco Pagliuso credeva fino in fondo. Io non voglio nient'altro e voglio guardare in faccia chi ha pensato di silenziare Francesco Pagliuso. Lui mi darà la forza di andare avanti perché io andrò avanti, andrò avanti nel rispetto di quello che lui aveva creato e di quello in cui lui credeva. Cosa vuole dire agli assassini di suo fratello? Di avere il coraggio di guardarmi in faccia, di guardarmi negli occhi che hanno certamente tolto ad un bambino di sei anni, a Giovanni Leonardo Maria, un papà, un papà meraviglioso, che hanno tolto certamente ad una sorella l'affetto più caro, che hanno tolto ad una madre ad un padre il figlio più caro, il figlio migliore. Hanno tolto a tutti noi la parte migliore di noi perché Francesco Pagliuso era la parte migliore che abbiano il coraggio di guardarmi in faccia, ma che certamente a Francesco Pagliuso non lo hanno silenziato. Dalla Mezzia Terme per l'AC News 24